Dallo scorso 9 maggio gli equipaggi di polizia e carabinieri di Prato hanno uno strumento in più da poter utilizzare nel quotidiano controllo del territorio. Si tratta del Taser, l'arma ad impulsi elettrici che dopo la sperimentazione avviata negli anni passati sta entrando gradualmente in dotazione delle forze dell'ordine di tutta Italia. Una vera e propria arma che al premere del grilletto aziona due dardi che raggiungono il soggetto minaccioso e gli scaricano addosso un impulso elettrico in grado di paralizzare temporaneamente i muscoli rendendo il soggetto inoffensivo. Una vera e propria arma che è entrata nella fondina di poliziotti delle volanti e carabinieri del nucleo radiomobile dopo una specifica formazione e che prevede precise regole di ingaggio. L'utilizzo dell'arma deve essere preceduta da, qualora la circostanza la consenta ovviamente, deve essere preceduta da una serie di avvertimenti, di avvisi che vengono dati e finalizzati a rendere dotto comunque il soggetto che si procederà all'utilizzo di un'arma impulsi elettrici, quindi l'estrazione dell'arma, il puntamento nei confronti del soggetto che sta per essere attinto e l'utilizzo del cosiddetto warning arc, cioè di un circuito elettrico roteante che ha scopo prettamente dissuasivo, quindi tutte attività che vengono svolte a distanza e in ultimo, come ultimo step, quindi l'esplosione della cartuccia con la creazione del circuito elettrico per immobilizzarlo. Ciascun equipaggio, formato da due persone, ha in dotazione un solo taser ma le regole di ingaggio riguardano entrambi gli operatori. Naturalmente al momento dell'utilizzo del taser anche il compagno, il militare che affianca deve fare una procedura specifica per collaborare nel bloccaggio del soggetto. Naturalmente una volta che vengono esplosi i dardi e quindi viene immobilizzato per alcuni secondi il soggetto, l'altro militare deve intervenire per bloccarlo e metterlo in sicurezza affinché non riprenda quell'attività di violenza o minaccia che aveva in precedenza. Il taser è stato utilizzato per la prima volta a Prato la scorsa domenica da una volante di polizia per neutralizzare un 37enne marocchino che dopo una lite all'interno di una sala slot in stato di agitazione si è scagliato contro gli agenti in piazza del Mercato Nuovo. L'arma ad impulsi elettrici, secondo gli addetti ai lavori, potrà ridurre il rischio di scontri corpo a corpo con soggetti violenti, pericolosi anche per terze persone e potrà di conseguenza anche limitare gli infortuni in servizio di poliziotti e carabinieri.